Nicola Terranova ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile tecnico della prima squadra del Canicati Calcio. Oltre a Terranova lasciano il Canicati il preparatore atletico Gianluca Amato, il preparatore dei portieri Pietro Catalano e la nutrizionista Sandra Greco. Tutto lo staff tecnico dunque si è dimesso. Terranova, che si è definito Racinaro nel cuore, ha così spiegato la sua decisione. È con profondo rammarico che mi trovo costretto a comunicare l'interruzione del mio rapporto lavorativo con il Canicati Calcio. Finisce così per me in modo brusco e inaspettato, una storia di amore sportivo nella quale ho creduto intensamente i risultati conseguiti nella passata stagione. Le emozioni, le gioie e i dolori, i picchi indescrivibili di adrenalina hanno creato tra me e questa squadra, questa città e questi colori un legame che per lunghi tratti ho ritenuto indissolubile. Ha spiegato ancora Terranova, ma come in tutte le storie della vita c'è un inizio e una fine. Il mio legame con il Canicati mi ha spinto oltre ogni logica. In tanti, dopo quanto accaduto nella scorsa stagione, mi consigliavano di andare via, di dare spazio alle mie, credo legittime ambizioni, di lasciare una piazza dove quest'anno Terranova deve fare meglio di quello appena trascorso. Al cuore non si comanda e poi mai sfidare il sottoscritto risponderò sempre presente. Nell'assoluta convinzione di potere, di dovere far bene, ho accettato di buon grado la sfida, aggiunge l'ex allenatore delle Canicati. L'ho fatto pur sapendo di una riduzione del budget da parte della società, nella certezza che le sinergie positive sviluppate lo scorso anno con questo gruppo, squadra, dirigenti e pubblico, ci avrebbero portato a vivere insieme un altro sogno. Oggi purtroppo le divergenze tra me e il direttore sportivo, che mi rimprovera di essere troppo esigente, eppure sono lo stesso della passata stagione, mi impongono una nuova riflessione. Ridimensionamento dei programmi va bene, ma va bene nei limiti che mi consentono di crederci, di non ingannare una tifoseria che mi vuole bene, di non mancare di rispetto all'uomo, al tecnico, al mio staff e principalmente alla gente che crede in me. E soprattutto non a pochi giorni dall'inizio del campionato. Siamo due giorni dalla chiusura del calciomercato e la rosa risulta ancora incompleta, carente di pedine fondamentali e ulteriori giocatori di valore che completino la batteria degli under. Lascio Canicati con profonda amarezza, con il rammarico di quello che poteva essere e che purtroppo non è stato. Grazie alla città, grazie ad un grande presidente, alla dirigenza, grazie a questa meravigliosa tifoseria. A tutti l'augurio delle migliori fortune sportive e personali da colui che rimarrà sempre a Racinaro nel cuore, conclude Terranova. Il presidente Angelo Licata e tutti i dirigenti hanno ringraziato Terranova e l'intero staff tecnico per la grande professionalità, l'impegno profuso e gli esaltanti risultati sportivi raggiunti. Intanto oggi la squadra si allenerà con il capitano Francesco Maggio che in attesa della scelta del nuovo allenatore ha preso in mano le redini del gruppo. La società adesso si tuffa nel mercato per individuare un allenatore che innanzitutto possa accettare il gruppo all'istituto da Terranova e proseguire il cammino verso il campionato che inizierà domenica con la trasferta a Favara. Nel derby con la squadra dell'ex allenatore Giovanni Farsone.